Care Divise Uniti al Popolo, sono qui per dare alcune indicazioni, se mai ce ne fosse bisogno, per quella che sarà la grande manifestazione del 13 marzo. So che avete deciso di fare questa grande manifestazione che potrà portare insieme un milione di persone, forse di più, forse di meno, in piazza a Roma e sono qui un po' per dirvi che sono con voi. Io non ho mai creduto che le manifestazioni di un certo genere potessero risolvere i problemi della società come quelli che noi abbiamo e che viviamo oggi, però in questo caso le cose sono diverse. È giunto un momento in cui la coscienza umana non può più fare a meno di fare qualcosa per modificare lo stato de facto che noi abbiamo in Italia. Cioè voi soprattutto siete stati viripesi, siete stati emarginati, vi hanno tolto praticamente la divisa, vi hanno tolto le armi perché difendevate la Costituzione, difendevate quello che c'è scritto sul libretto di istruzioni dell'azienda Italia. Invece chi è rimasto dall'altra parte sostanzialmente ha piegato la testa, ob torto collo, a degli ordini che vengono da una parte dell'Italia che ha vilipeso e calpestato la Costituzione negli ultimi due anni almeno 20 volte. Ebbene, vi va riconosciuto il fatto che voi siete stati in grado di resistere a tutte quelle tremende pressioni e a quei ricatti che qualcuno che in questo momento indebitamente comanda in Italia vi ha fatto. È giunto il momento secondo me che il popolo italiano, quelli che stanno dalla parte della Costituzione, vi prenda sotto l'ala protettrice. Cioè voi avete sempre protetto sostanzialmente gli italiani con il vostro lavoro, con la vostra divisa, con la vostra professionalità e ora è giunto il momento che gli italiani vi ricambino, essendo, stando con voi dalla vostra parte, sostenendo sostanzialmente il vostro ideale. Perché l'ideale su cui siamo tutti d'accordo è la Costituzione italiana. Noi combattiamo per questo tipo di target, di obiettivo. 13 marzo a Roma il popolo sarà con voi perché voi non è che siete un'altra cosa. Prima di avere la divisa siete il popolo. In questo contesto sicuramente mettere insieme un milione di persone è una cosa molto complicata, ci sono delle correnti di pensiero completamente diverse, ma questo è un problema che viene dopo. Il obiettivo primario di Roma è, secondo il mio modesto punto di vista, avere tutte le idee chiare su un punto. Qualcuno ha calpestato la Costituzione e noi e voi non siamo d'accordo. Su questo invece noi siamo tutti d'accordo, che bisogna ripristinare l'idea della legalità in Italia, seguire quello che c'è scritto sulla Costituzione. Poi quello che verrà dopo sarà oggetto di discussione e ci saranno le diverse modalità di pensiero. Ma una cosa importante è questo. Il 13 marzo noi tutti sul punto di partenza la pensiamo tutti nello stesso modo ed è inutile ora parlare di quello che succederà dopo. Focalizziamo la nostra attenzione sull'istante in cui il 13 marzo esprimeremo tutti quanti una stessa idea, che è un'idea che è uguale per tutti. Ci vogliamo fare ancora mettere i piedi sulla testa da qualcuno che comanda l'azienda Italia e che non ha mai stato eletto da nessun italiano? Vogliamo ancora continuare in questa direzione? La deriva della democrazia sarà irrecuperabile. Il 13 marzo noi tutti potremmo accorgerci che siamo in tantissimi a pensare che la Costituzione stessa è stata vilipesa e ci accorgeremo e gli altri da qualche parte saranno anche loro. si accorgeranno che voi avete avuto il coraggio, che molti altri non hanno avuto, di saper resistere ai riccatti di un governo che non ha in realtà il diritto di stare lì dove sta. Per cui quello che succederà dopo sarà da decidere. Ma il 13 marzo c'è una cosa che abbiamo già deciso tutti. Siamo tutti d'accordo. Qualcuno vuole in qualche modo fregarsene di quello che c'è scritto sul libretto di istruzioni, che è la Costituzione. Allora per favore invece voi e noi siamo tutti dalla stessa parte. Non c'è da discutere su questo perché siamo tutti dalla stessa parte. Dopo si discuterà del resto. Ma il 13 marzo c'è un unico popolo, il popolo italiano, il popolo della Costituzione, il popolo della legalità, il popolo dei diritti, dei lavoratori, chiunque essi siano, sarà una manifestazione incredibile in cui tutti sentiranno la coscienza di sé e la coscienza del gruppo insieme. Roba da far venire i brividi, una bolla di coscienza di fronte a tutta l'umanità. L'altro giorno c'era un cartello di una manifestazione francese che diceva «Noi non finiremo come gli italiani». Vi rendete conto che tipo di vergogna si può per un attimo sentire e vedere quando io leggo quell'articolo? Bisogna dimostrare anche agli altri, alle altre nazioni, che il 13 marzo c'è un epocale cambiamento. Gli italiani hanno capito chi sono, riacquisiscono la consapevolezza e la coscienza di sé e non si fanno mettere i piedi sulla testa più da nessuno. Noi siamo i difensori della Costituzione. La Costituzione è lì e si può vedere che siamo noi i difensori della Costituzione, non qualcun altro. Sarà una grande manifestazione, una grande manifestazione che comincerà così come finirà, per chiudere un ciclo. Comincerà con l'inno di Mameli e finirà con l'inno di Mameli e qualcuno si accorgerà che non c'è più tripa per gatti e che noi abbiamo deciso di riprenderci su di noi la responsabilità di essere italiani, il che non è poco. Fare informazioni indipendente non è facile. Sostenerci è davvero semplicissimo. Vai su mepiù.it slash sostieni. Grazie.